SONO NATO COME L'UOMO PIÙ RICO DEL MUNDO MA MORIRÒ COME IL PIÙ POVERO SPENDERÀ TUTTO CIÙO CHE HO IN VIAGGI INTOLTO AL MUNDO IN OTTIME CONVERSAZIONI DORMENDO DA SOLO E DORMENDO IN BUONA COMPANIA SPENDERÀ TUTTO IMPARANDO COSE NUOVE E PERFEZIONANDO QUELE CHE CONOSCO BENE VEDETE, L'UOMO PIÙ RICO DEL MUNDO NASCE A OGNI SECONDO PERCHE LA RICCHEZZA NON SI MISURA IN SOLTI SI MISURA IN TEMPO E NON ABBIAMO ALTRA SCELTA CHE SPENDERLO TUTTO QUINDI SPENDETELO BENE MARTINI PLAY WITH TIME